L'Ultra HD ci consente di vedere i personaggi come saranno tra dieci anni. È una tecnologia che ha solo Sky e noi vi mostriamo i personaggi di questa settimana come saranno tra dieci anni. Vediamo con l'Ultra HD. Greggio, come sarà con l'Ultra HD? Cosa diventerà Greggio? Come lo potrà? Perfetto, è uguale. Vediamo i prossimi. Cambiasso. Guarda tu chi diventa... Diventa più. Vediamo Amadeus. Ma non è stato. È una tecnologia che ha... Luca Relli con l'Ultra HD. Pazzesco. È uguale. Vediamo. Scusa, è il chat con l'Ultra HD. Tu non ti immagini neanche, ma sono... Eh, è la verità. Vediamo Lucio. Lucio! Lucio con l'Ultra HD. Ancora Lucio con l'Ultra HD. Benitez con l'Ultra HD.